Mi ha fatto sentire come componente di una squadra, io sono molto sensibile all'argomento appunto perché ho fatto molto squadra di squadra, perché mi piace far parte della squadra, mi piace schierarmi, mi piace indossare una maglietta, mi piace competere in maniera corretta nei confronti dell'avversario e Paolo ha fatto questo lavoro, mi ha fatto sentire parte di una squadra. L'altro motivo chiaramente è il fattore Paolo, nel senso che ho trovato in lui una persona carismatica, una persona preparata e una persona con idee molto chiare. Io e lui diciamo che ci siamo incrociati nei corridori di cerchio scientifico, sulle